mens sana consigli per il benessere emotivo un saluto a tutti da alessia calvagno con me la dottoressa debora giombarresi psicologa e psicoterapeuta ciao debora ciao alessia allora ci incontriamo anche oggi grazie per la tua presenza e parliamo di autostima cos'è in psicologia l'autostima quando parliamo di autostima intendiamo come sostanzialmente noi valutiamo noi stessi è molto legata a questa percezione valutativa come io mi vedo allo sguardo che io ho nei confronti di me stessa ed è sostanzialmente la capacità si traduce con la capacità di volermi bene quanto mi valorizzo quanto mi rispetto quanto mi amo e sostanzialmente è legato tantissimo al valore che do alla mia esistenza la mia persona in relazione anche agli altri perché chiaramente poi noi siamo degli esseri umani che ci relazioniamo con l'altro quindi l'autostima è la base identitaria dell'essere umano la base appunto dell'identità sta proprio nella valutazione nella percezione che io di me stessa nella consapevolezza che io ho di me stessa e del valore che io ho attribuito a me stessa quanto io sono consapevole della persona che sono e quanto di conseguenza mi rispetto sostanzialmente è legato al pensiero che io di me sono una buona persona penso di essere una cattiva persona penso di essere una persona in gamba penso di essere una persona che non vale nulla questo l'autostima sostanzialmente si traduce in questo nella capacità appunto di volersi bene e quindi perché l'autostima è importante è una bellissima domanda e io credo che ogni persona ha l'obbligo nei confronti di se stessa di curare l'autostima perché vedi Alessia l'autostima è il primo tassello che poi si costruisce lo si deve costruire nel bambino no questo vale per i genitori il genitore ha l'obbligo etico morale di costruire l'autostima al bambino come lo fa lo fa sostanzialmente dando fiducia al bambino non negando al bambino l'opportunità di esplorare la realtà circostante la realtà che circonda il bambino ed è fondamentale perché sostanzialmente dalla percezione dal concetto di cui prima parlavamo no dalla percezione che io di me stessa derivano tutte le scelte che io prendo perché se io penso no di me stessa che non sono una persona per esempio una buona amica no è chiaro che il tassello successivo sarà il fatto che io non sarò una persona non avrò sicuramente tanti amici e poi paradossale perché il fatto che io non ho molti amici lo traduco come vedi è una conferma del fatto del mio pensiero perché se io fossi una persona invece socievole avrei tanti amici invece non è così perché il pensiero condiziona le mie scelte il fatto che io non pensi di essere una buona amica mi porta ad essere più rigida nelle relazioni mi porta a chiudermi mi porta a non frequentare contesti di socialità che mi permette di relazionarmi con l'altro questo chiaramente mi limita la mia esplorazione mi porta e mi limita nell'incontro con l'altro quindi vediamo come e ho preso una una scelta abbastanza banale ma noi pensiamo a e qui faccio un esempio più concreto no per far capire quanto l'autostima incide nella capacità di scelta e nelle scelte che compie che compie una persona se io penso no di non essere una persona molto brava insomma di valere poco no quindi ho una disistima personale anche perché magari i miei genitori mi hanno cresciuto con ma perché devi frequentare l'università e questi sono casi che mi sono capitati no la madre il padre che dicono alla figlia perché devi fare l'università fai un istituto professionale tanto che cosa devi andare a fare all'università la ragazza traduce questa frase come evidentemente non sono portata evidentemente non sono capace evidentemente non valgo abbastanza ora quella ragazza probabilmente sarà una ragazza che all'università non ci andrà veramente perché ha costruito un'immagine di sé legata al posso fare ma fino a un certo punto non sono adeguatamente brava per che è una falsa credenza però vediamo come quello che io credo di me stessa poi incide tanto nel processo decisionale e questo è l'aspetto uno degli aspetti più forti e più gravi perché poi incide sostanzialmente nel nella nostra nel nostro progetto di vita ma incide tantissimo anche un aspetto importante anche legato all'umore se io mi rispetto poco e mi rispetto poco o mi voglio poco bene questo mi porta ad avere delle credenze di me stessa e ad esperire delle emozioni poco positive quindi anche il mio umore non è limpido non è sereno ma manifesta insomma anche delle piccole anomalie e quindi quali sono i fattori che influenzano l'autostima? l'influenza e l'autostima tantissimo la credenza che io ho di me quindi quello che si dovrebbe fare quello che è importante fare è sostanzialmente avere una buona consapevolezza personale il che non significa perché quando parliamo di autostima e insomma abbiamo parlato accennando un po' della bassa autostima si pensa che il contrario quindi avere pensare di noi stessi che siamo i migliori più bravi eccezionali eccetera eccetera sia positivo ecco noi dobbiamo essere delle persone coerenti cioè essere delle persone che aderiscono che hanno una percezione di se stessi aderenti al reale cioè io sono consapevole di essere brava in x meno brava in y di avere una buona capacità sto facendo un esempio nell'ascolto dell'altro però poi ho quest'altro difetto il confrontarmi con una mancanza non mi deve creare scompenso perché il fatto che io sia mancante in un'area della mia personalità la devo cogliere come un'opportunità ma che non mi affossa che non mi destabilizza ma che mi dà la grinta per invece colmare quell'area che magari non è appieno non è brillante ma che mi porta a lavorarci perché sostanzialmente ogni essere umano lo diciamo sempre e aspetti positivi aspetti negativi però gli aspetti negativi non dobbiamo non devono creare una frustrazione ma anzi devono essere potenziale in esplorato un'area nella quale si può costruire si possono costruire anche tante cose belle chiaramente non è semplice perché chiaramente se è un'area di difficoltà è perché insomma ci sono delle difficoltà oggettive ma si può costruire tanto e bene in quelle aree particolari del nostro essere e questa è la sfida e questa poi è la crescita personale al quale siamo chiamati costantemente per essere persone migliori. Quindi come possiamo identificare noi i segnali di una sana autostima e di una scarsa autostima? Quando abbiamo una scarsa autostima lo vediamo perché sostanzialmente nella scarsa autostima la persona con scarsa autostima è una persona sostanzialmente ripiegata su se stessa è una persona che ha una scarsa autostima che va ad amplificare è sempre percezione personale l'autostima fa parte di come io percepisco me stessa quindi una persona che ha una bassa autostima percepisce se stessa amplificando tutte le aree in anomalia diciamo così che hanno che manifestano dei piccoli puntini delle piccole negatività e quelle piccole negatività quelle piccole aree di potenziamento a me piace chiamarle più così perché le parole hanno un senso e delle volte ci aiutano anche in questo però quelle aree di potenziamento che quindi non sono in essere già diciamo fluide e funzionali vengono amplificati e allora io non vedo nient'altro la persona con bassa autostima la riconosce per questo perché io non vedo nient'altro che quello che non riesco a fare che quello che non riesco a dire che quello che non riesco a esprimere quando invece non riesco a vedere tutte le cose belle che ho tutte le cose belle che ho costruito e non riesco a vivermi molto spesso nemmeno il presente ma sto in costante ansia rispetto al mio presente al mio domani questo per esempio fa parte un po' del del modo di vedere della visione che ha la persona con bassa autostima una persona che invece ha una persona un'autostima buona è una persona che ha una visione diciamo come dicevo prima coerente una persona capace di che con molta serenità e con molta buona pace riesce a comprendere e a riesce a fare un'analisi funzionale di se stessa impara anche a gestire i propri pensieri perché in genere perché facevo prima l'esempio no della ragazza che non fa l'università perché pensa di non essere in grado di pensieri del genere vanno gestiti perché in fondo non sono brava a chi l'ha detto da dove parte parte da quello che mi è stato sempre insegnato benissimo come vado qual è il mio rendimento scolastico ho un sette ok non è un dieci ma chi l'ha detto che tutti dobbiamo essere dei dieci dieci lode o avere la media del lotto e del nome per fare l'università nessuno ok quindi avere una coerenza e gestire i pensieri e avere anche la persona che ha una buona autostima ha anche la capacità di esplorare e sfida la sua esplorazione perché in fondo possiamo noi anche esplorare un percorso capire poi che non è il nostro e se effettuiamo viraggio no se facciamo un'altra scelta dopo averne fatto la prima va bene così cioè nella vita delle volte anche prove d'errore bisogna avere anche il coraggio di agire e magari di ci si rende conto in quel cammino che non è la scelta più corretta per noi per il nostro benessere e a quel punto possiamo scegliere altro e va bene così senza andare lì a colpevolizzarci la persona che ha una buona autostima in genere applica questa strategia gestisce pensieri ed emozioni in maniera molto serena sfidando anche se stessi quindi c'è anche una sorta di equilibrio diciamo no quindi di consapevolezza di ciò che che sappiamo fare bene no di ciò che invece va migliorato quelle aree di potenziamento che ci dicevi prima allora cosa possiamo fare per migliorare l'autostima se riconosciamo appunto di avere una scarsa autostima allora cosa possiamo fare se abbiamo una scarsa autostima diciamo che quello che possiamo fare è darci fiducia e non dobbiamo essere ansiosi se abbiamo una bassa autostima in genere siamo persone che abbiamo un pensiero molto molto intenso pensiamo tantissimo e invece no bisogna appunto avere quella serenità tale che ci porta a gestirci che ci porta ad andare avanti molto spesso la persona con bassa autostima una persona bloccata una persona che non fa per paura di sbagliare no che è proprio ingessata invece no dobbiamo proprio sfidare noi stessi all'esplorazione ad andare avanti e se chiaramente poi è quello che sostanzialmente poi diciamo sempre no se ci rendiamo conto che il nostro rapporto con noi stessi ci fa stare male no anche lì si possono fare delle sedute da un professionista che ci aiuta a vedere no quel bello che abbiamo e ad andare avanti in maniera serena senza quella zavorra che delle volte percepiamo no molto spesso è pesante percepiamo proprio una pesantezza dentro noi stessi no e questo ci porta comunque non sempre ad esperire benessere ecco noi abbiamo l'obbligo di stare bene certo quindi insomma è importante anche fare ciò che è necessario per poter trovare o ritrovare la serenità quindi anche con l'aiuto di uno psicoterapeuta di una psicoterapeuta come diciamo sempre allora in conclusione debbola vogliamo dare uno sguardo biblico uno spunto biblico anche su questo tema quindi nella bibbia si parla di autostima nella bibbia dio parla molto e anche nei vangeli si parla tanto di amore questo dio che ci amano e al contempo questa indegnità dell'essere umano molto spesso l'essere umano si sente indegno e in fondo l'indegnità è un concetto che è molto affine alla persona con bassa autostima di cui oggi abbiamo parlato no ecco perché anche la persona con bassa autostima ha difficoltà anche nella relazione perché se io ho un amico brillante questa e questo smalto no questa luce dell'altro porta a vedere me le aree che io percepisco di oscurità perché tutta percezione no ecco che appunto darsi valore e riconoscere se stessi diventa fondamentale e mi piace un un testo che si trova in zaccaria capitolo 2 versetto 8 che si conclude con una frase che a me piace molto e credo possa aiutare tantissimo chi chi soffre di bassa autostima chi pensa di non valere abbastanza chi pensa di essere problematico chi si percepisce lacunoso chi pensa di non essere amato chi si sente non voluto bene e ecco il signore ci dice chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio mio e questo è straordinario perché il signore ci ama così tanto e quindi noi siamo così a differenza della nostra percezione di indegnità a differenza del nostro non volerci bene a differenza del nostro non rispettarci abbastanza a differenza del nostro trattarci male perché poi la persona con bassa autostima se io non mi do valore perché io insomma non mi sto trattando bene ecco a differenza di questo il signore cosa ci dice il signore è quello che io lo immagino come qualcuno che si mette davanti a noi ci protegge ci e ci dice anche con un imperativo con voce con una voce abbastanza incisiva no chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio mio un'immagine forte che che veramente ci trasmette quanto ci dà l'esempio di quanto il signore ci vuole bene e di quanto noi dobbiamo abbiamo il dovere di volerci bene e quello che poi vuole il signore è semplicemente che noi impariamo a volerci bene impariamo ad amarci perché solo se io do do valore a me stessa io posso riuscire a dare valore all'altro posso riuscire ad amare i miei figli posso riuscire ad amare i miei nipoti i miei amici perché perché quei concetti anche che ritornano sempre costantemente nella bibbia la pace la serenità io vi do la mia pace altro non è che quella serenità interiore che viene che deriva dal fatto che io ho dei difetti benissimo va bene così li accolgo li accetto e ci lavoro con serenità d'animo e l'altro se brilla più di me in una determinata area va bene così gli faccio i complimenti lo riconosco ma questo riconoscere l'altro non mi porta a non riconoscere me stesso e questo senso di serenità mi porta a rilassatezza mi posso mi porta sere quella serenità che mi fa stare bene nell'incontro con l'altro e nell'incontro anche di me stesso e non è semplice è un lavoro che deve essere fatto alessia nel quotidiano perché soprattutto in una prima fase quando lavoriamo nella nostra autostima no sulla la nostra autostima ci incontreremo con pensieri intrusivi che ci dicono costantemente che ci forniscono costantemente un'immagine negativa di noi stessi che va contrastata e sapere che dio ci ama così tanto che addirittura noi valiamo così tanto che addirittura chi tocca a noi tocca una parte vitale di dio wow è importante è importante grazie per questi spunti interessanti che ci hai dato oggi quindi non ci scoraggiamo ma continuiamo a lavorare per poter ritrovare o trovare quella serenità se non siamo riusciti finora ad ottenere la nostra vita per poterci amare anche perché nella bibbia leggiamo anche ama il tuo prossimo come te stesso no nel nel vangelo quindi come dicevi tu prima amare noi stessi significa in qualche modo anche poter amare anche gli altri quindi oggi ci salutiamo e concludiamo qui questa puntata e ringrazio la dottoressa debora giombarresi psicologa e psicoterapeuta per essere stata con noi alla prossima grazie come sempre lessia mens sana consigli per il benessere emotivo